amici sportivi ben ritrovati con fabio sinatti e moreno sinatti ecco qui siamo tornati un pochino indietro con per quanto riguarda il cross era un'immagine che non avevamo fatto rivedere riferita campionati società di empoli dove una giornata stupenda diciamo invernale ma stupenda da un punto di vista proprio bellissimo e quindi qui vediamo le prime avvisaglie per quanto concerne la gara junioris che a seguire poi avveniva la gara assoluta veramente una gara di grande spessore anche da un punto di vista della presenza degli atleti insomma quindi una gara direi molto spettacolare fra l'altro in un circuito bellissimo ovviamente se fosse stato tempo cattivo sarebbe stato anche qui un un disagio notevole però ecco qui avevamo veramente tutta la presenza anche per quanto riguarda le società a ritiene presenti in questa occasione dove abbiamo ottenuto un buon risultato sia dal punto di vista della categoria junioris che dal punto di vista della categoria assoluti signor questa è la prima prova la seconda è stata quella che abbiamo già trasmesso a pietra viva in comune di Buccine cioè questo allora ci ha detto male a questi qui e gli ha detto benissimo come tempo quindi ecco però ecco c'è da dire questo è un bel percorso ecco lo vedete anche voi adesso molto vario molto direi anche beh particolarmente anche impegnativo anche se sembra poco però insomma queste variazioni non sono male sì perché ci sono salite e discesa è un parco tipo Pionta che c'è la salita e la discesa e molte curve e poca pianura molto spettacolare qui abbiamo visto un bar che in precedenza poi vediamo anche Mori i due insieme a Violi tre che sono i protagonisti diciamo della polisportiva per quanto riguarda la categoria junioris e poi Violi si è un po' infortunato poi ha avuto dei problemi con il triatron quindi il fatto sta che ha un pochino disertato le ultime le ultime gare mentre sia Mori che in Bari che stanno andando sempre molto forti quindi saranno dei potenziali diciamo protagonisti anche nel futuro del mezzofondo direi a Ritino ma non soltanto ecco qui sta arrivando Violi comunque c'è da dire che in questo periodo qui in Bari che stava benissimo Mori stava andando stava recuperando sì ecco adesso adesso sono quasi alla pari quindi vediamo nelle prossime gare quello che succederà e sicuramente diciamo una delle diciamo delle occasioni saranno l'occasione proprio anche dei campionati di società che si disputeranno ad Arezzo quindi qualcuno farà già le gare in pista altre poi corse su strada insomma quindi vedremo un po' quello che quello accadrà ecco a proposito dei campionati di società quest'anno ad Arezzo abbiamo un sacco di gare al campo di atletica Enzo Tenti un sacco di gare l'ultima novità è quella che ecco abbiamo detto che le 26 e il 27 di maggio ci saranno due eventi anzi ci saranno il 12 e il 13 ci saranno i campionati di società allievi regionali quindi grande atletica a livello proprio giovanile nel momento in cui poi ci sarà il salto di qualità nella categoria assoluta e poi a fine maggio ci saranno invece la prima la prima giornata della seconda prova dei campionati di società assoluti dove vedremo anche lì atleti di un certo livello come si è verificato lo scorso anno il giorno dopo ci saranno invece ad Arezzo nel centro città quindi su strada i campionati regionali dei 10.000 metri all'interno della scala del castello dove ci saranno già grandi nomi importanti presenti a questa edizione numero 46 e poi proprio recentissima soltanto di 48 ore fa la decisione di avere ad Arezzo il 2 e 3 giugno i campionati italiani master della staffetta 4x100 4x400 4x800 4x15 i 10.000 metri maschili e femminili e prove multiple quindi sarà un altro grande evento con la presenza di circa un migliaio di atleti provenienti da tutta Italia quindi questo diciamo per la nostra città comincia ad essere un appuntamento importante che poi dopo si completerà a fine il 29 e 30 giugno e primo luglio con i campionati italiani master su pista dove prevediamo 3-4 mila persone quindi 3-4 mila atleti che prenderanno parte a queste tre giornate di atletica ma insomma ecco quest'anno veramente Arezzo è un punto focale per quanto riguarda l'atletica e non soltanto quindi sarà veramente un impegno grosso da parte sia dell'amministrazione sia da parte delle società che organizzano questi eventi ma insomma sarà anche un prestigio per Arezzo accogliere questi grandi eventi quindi significa che la federazione crede molto nella città di Arezzo, crede molto nelle società che organizzano queste manifestazioni quindi ci dà atto e soprattutto ci stimola a poter proseguire per richiedere ancora eventi di un certo livello quindi questo diciamo per Arezzo è un aspetto positivo insomma che non si deve tralasciare anzi si deve curare e soprattutto cercare di coltivarle nel miglior modo possibile proprio perché si accentui maggiormente questa presenza di eventi di un certo livello nella nostra città e torniamo invece alla gara di Empoli ecco qui vediamo un mare col petto l'anno 1 che mi sembra arrivato sesto a settimo quindi insomma settimo in Toscana quindi non è mai ma poi una delle prime esperienze a livello regionale anche per lui quindi diciamo sta acquisendo un po' l'esperienza insomma di queste manifestazioni che ovviamente prediligono mentre per Niro Lattilo oramai è un veterano di queste gare riesce sempre a saper dosare bene le forze, a comportarsi bene non a caso poi in occasione dei campionati italiani è stato un po' il protagonista che ha tirato la squadra a vincere i campionati italiani ecco Moreno poi in occasione di questi campionati del Master sicuramente un pensierino anche per le squadre retine ci sono per poter tentare diciamo sui 4x15 e anche 4x8 noi abbiamo buone possibilità in varie categorie quindi sarebbe l'occasione vediamo qui Cardelli che sicuramente è un affezionatissimo saranno pronti per fare queste gare quindi sarà uno di quelli che tirerà per cercare di ottenere il bis anche nei campionati di staffette oltre a quello delle campestre quindi sarebbe veramente un grande successo ecco quindi abbiamo un taglino e graziani che loro non potranno farli perché sono giovani però avranno la possibilità il giorno successivo di potersi cimentare la scalata al castello il 27 di maggio con i 10.000 su strada omologati quindi percorso omologato che saranno 3 giri un pezzetto iniziale 400 metri iniziali che servivano per fare 3 giri insomma per compiere 10 km tutti in un circuito abbastanza ristretto in modo da poterlo da poter assistere insomma ecco abbiamo visto anche Cristian Tarsi che saranno uno di quelli che cercherà di puntare forte su questa la squadra c'è una buona quindi le staffette su 10.000 ma anche sulla staffetta quindi sarà lotta serratissima direi proprio fra società anche toscane oltre a quelle che proveranno da un po' da tutta Italia insomma ecco quindi sarà un'occasione importante per la città di Arezzo ma soprattutto per le società e per gli atleti aretini combattere e poter lottare per le vittorie quindi questa non è una cosa da poco che sicuramente potrà dare vantaggio anche alla città stessa quindi diciamo avanzare anche da un punto di vista sportivo sotto questo aspetto sicuramente porterà anche un po' di gente, diversa gente da fuori quindi qualcuno dormirà, qualcuno mangerà, qualcuno ridormirà quindi sono due giornate quindi dovrebbe essere... poi ecco senz'altro diciamo i campionati di staffette diciamo erano predisposte per Matera poi addirittura noi avevamo pensato anche come società di poter partecipare a Matera quindi sono venute diciamo quasi a... come dicono con una pipa di cocco quindi cercheremo di approfittarne per cercare di dare il massimo anche in occasione di quella circostanza che abbiamo intanto visto anche Malvin, Metius e poi altri aretini che si stanno dimostrando molto forti anche a livello... li vediamo correre un po' in tutta la Toscana e essere fra i protagonisti quindi questo ci fa piacere insomma ecco che gli atleti del mezzo Fondaretino sono al di là diciamo degli stranieri sono fra quelli più papabili e più forti che ci sono in Toscana sì sì quindi gli altri hanno altri atleti di altre società specialmente il parco Alpiapuane i toscani non c'è nessuno, sono tutti da... scusate un marocchino che abita in Toscana gli altri sono tutti dal nord e dal sud e quindi intanto vediamo ecco altro tratto di questo percorso bellissimo direi così nella quale ogni atleta poteva correre facilmente questo è un allenante anche come percorso e come direi anche da un punto di vista mentale di correre facilmente sì sì questo è... non è monotono insomma ecco non ci sono quei rettiligni qui proprio e cambi continuamente il ritmo cambi completamente variazioni cioè variazioni di luogo proprio parti dalla salita a discesa e qui vediamo proprio nelle fasi quasi conclusive di questa competizione dove diciamo gli atleti cerchiano di dare il massimo qui vediamo ecco l'atleta Massimo Massimo che è uno specialista diciamo di corsa in montagna ma soprattutto nelle gare durissime è battuto anche da altri soggetti quindi vuol dire non erano le condizioni perfette la qualità era buona era discreta c'erano quei due atleti di di buono c'erano quell'atleta di Castello nuovo che è un romano ex Fiamme Gialle quindi insomma non è che ci avevano... e qui vediamo anche il Khalil che è rientrato dal Marocco proprio recentemente quindi sta ritornando e ci auguriamo che possa essere partecipe ai prossimi campionati anche di società con risultati importanti poi nei 10.000 cercheremo di veramente di inserirlo come uno dei protagonisti di questa competizione al di là della gara in circuito che ci sarà per la scalata del Castello della quale già possiamo dire al 99% la presenza di Ken Boy quindi l'atleta keniano più volte campione del mondo e campione olimpico le 3.000 sepi dovrebbe completare quest'anno l'annata diciamo l'ultimo anno forse di attività sportiva e quindi voleva fare due o tre gare in Italia e poi dopo destinare ai campionati del mondo l'ultima sua chance finale prima di appendere le scalpe al chiodo e adesso siamo passati invece alla corsa di Montepulciano al trofeo Maria Rossi Maria quindi questa competizione che quest'anno si è dovuta spostare nel periodo di aprile ha trovato una giornata bellissima l'anno scorso è stata fatta di febbraio quest'anno di aprile ecco qui la partenza con i bambini il settore giovanile starà che tutto sommato è stata molto bella anche quella lì ecco che possiamo dire intanto alcuni che hanno vinto Fakar Mohamed della politica al campino nella categoria dei cadetti invece Cicerone Giada nella categoria ragazze davanti a Valdivanessa e Cocci Deada poi ancora Gialli Alessio nella categoria ragazzi ancora Iachelli Paolo Ujah Adam Neri Lorenze Martini Alessio nella categoria esordenti maschili nei pulcini femminile Fakar Miriam davanti ad Antonio Irene poi ancora il Caddai Mohamed della polisportiva che ci hanno onori Davide Marra Vittorio Mercuri Alex e Volpi Gregorio nella categoria pulcini ancora per i primi passi Rosati Duccio e Mercuri Mattia ancora nei primi passi femminili Beccattini Alessia che detiene nel Gran Prix davanti a Mercati Giulia Banchetti Aurora ed Apice D'Afan poi ancora abbiamo Rosati Duccio Manerchia Massimo e Mercuri Mattia nei primi passi maschile poi Manerchia Maserà Lorenzo dell'Avis di Foiano nella categoria siamo passati alla partenza della gara degli assoluti quest'anno è stata modificata rispetto all'anno precedente appena appena modificata comunque è risultata a 14 chilometri e mezzo mi sembra insomma sono una gara abbastanza lunga però ecco direi che la correre sul ritmo una gara la correre sul ritmo perché è tutta pianeggiante percorso pianeggiante sì grandi rettilini ecco che la correre proprio sul ritmo una gara abbastanza partecipata per essere mi sembra arrivare sono arrivati più di 200 concorrenti sicuramente è stato un bel risultato anche da quel punto di vista lì tantissimi non competitivi come succede a Siena perché Corrine e Verde molti fanno le camminate però anche gli agonisti erano tanti poi tra l'altro direi anche una buona qualità considerando anche le concomitanze con la Maratona di Roma con altri eventi che c'erano nella zona pertanto sono riusciti anche a dare un risultato importante qui intanto vediamo proprio la testa della corsa con Cristian Taras che detiene la leadership del Grand Prix dopo dieci gare quindi nelle prossime settimane probabilmente programmeremo con una nuova maglia del 2018 il leader 2018 poi Attiglio Niola che ovviamente era l'uomo da battere in questo caso qui sappiamo benissimo le sue potenzialità qui vediamo c'era Martinelli Annetti e Balazzerini vediamo anche quindi tutte queste attere poi Prosa Mannuccini e qui il ritmo del gruppetto di testa chiaramente ha imposto un po' la gara altri hanno dovuto fare il passo un pochino più contenuto questa è la prima parte della gara era abbastanza in discesa poi dopo si sale in cavalcavia che oltrepassa l'autostrada e ci immergiamo nella campagna dove effettivamente c'era qualche casa e poi lungo l'argine di un torrente abbiamo fatto anche e però vediamo vediamo ecco qui neanche questo gruppo abbastanza allungato c'è anche Paganelli qui vediamo Lelli Filippo poi Maraghini poi Davide del Presportivo Comunale Sansepolcro la Lucia Bolpi Lucia vediamo la Dommasun Monica insieme a Nicoletta Sanarelli la Barneschi Francesca le tre quattro donne che si contendono sempre la leadership no è stata un bel gruppetto ecco Cucchiarini Olimpiche Rannellama che penso sarà uno da battere la categoria è il leader della categoria dell'argento è uno che ha fatto tutte le gare quindi e quindi con il bonus è riuscito ad appropriarsi questo titolo comunque ecco su www.podismo.tv troverete tutte le classifiche aggiornate alla decima gara delle Grand Prix e quindi già si può vedere da lì chi indosserà la maglia di leader nelle prossime settimane qui il cavalcavia dell'autostrada ecco forse l'unica parte che c'era e poi quella dove si saliva su quel torrente insomma questi due aspettati 5 metri qui vediamo Lombardi anche lui rientrato alle gare dopo un periodo diciamo un po' altalienante e poi chiaramente ecco questo percorso molto lineare molto lungo c'è da dire che questa tutta campagna ha inquinamento zero proprio le macchine non c'era nessuno anche la nostra macchina per poterli passare era molto in difficoltà non avendo la moto in questa circostanza qui a Carmela Mascolo eravamo un po' in difficoltà per recuperare un po' la testa della corsa comunque le strade sono strette quindi non è facile passare quando specialmente all'inizio quando sono quasi tutti insieme ecco vediamo proprio una panoramica anche di questa campagna senese anzi a confine quasi però ecco molto spettacolare direi che anche Nofroni Massimiliano che è stato un po' l'ideatore di questa manifestazione ha voluto fortemente inserirla nel circuito del Grand Prix con le novità che di solito nel senese non si verificano quindi questa occasione qui è riuscito veramente a smitizzare a diciamo incrinare un po' la la l'impostazione tecnica e organizzativa che ci sono nel senese si con lo speaker all'arrivo che non ci sono mai e questa cosa qui sicuramente ha fatto breccia ha fatto oltretutto direi una gara molto premiata e al tempo stesso un ristoro al di là delle più rose diciamo aspettative non so se ci sono le immagini del ristoro però ecco il ristoro è un pranzo è una cosa un rinfresco un rinfresco da matrimonio quindi pensate un po' quello che hanno realizzato gli amici di Montepulciano proprio soprattutto Massimiliano che ovviamente anche ha un ristorante è lui che ha messo però ecco ha voluto fare bella figura questi qui sono 5-6-7 ragazzi tutti di Norcia che sono un gruppo di Norcia che è dal secondo anno che vengono che sono presentati qui a Montepulciano l'accoglienza ovviamente ancora sempre molto molto brillante qui vediamo Cicerone Terenzio che corre a seconda anche lui alternando col lavoro che ha fa l'autista di pulma quindi anche lui è molto impegnato nel lungo e largo in tutta Italia l'altro giorno ci telefonò da Lecce addirittura quindi ecco qui vediamo invece l'atleta ex atleta che anche lui ebbe un incidente lo misero lo misero sotto insomma con la macchina e quindi sta ricorriciando piano piano ma questo era un atleta potenzialmente forte era forte qui vediamo la Tiberi Lucia chiaramente stiamo recuperando un po' sulla testa della corsa anche se ecco che vediamo Sanarelli poi insieme a Volpi e Tomasun è la Volpi che anche lei tenace sta costringendo la Sanarelli e qui c'è la Barneschi Francesca che ha preso un po' che ha preso un pochino all'arco lascia dire che sta recuperando perché inizialmente anche la Barneschi era stata Giannini prima non ci veniva Giannini Davide Davide sì e che vediamo anche Di Renzone anche Di Renzone che lui fa una gara ogni tanto quando se lo ricorda perché anche lui è impegnatissimo col lavoro e più ha sempre problemi di fisico Paganella abbiamo visto poi Stefano Sinatti ecco insieme a Prosa e qui ecco vediamo che gli atleti stanno sono molto frazionati Carlini Carlini Stefano anche nella categoria veterani lotta serratissima quest'anno c'è Soldini che sta malissimo e Basile di più quindi Mirco e quindi vediamo un pochino quello che succederà Fatichenti poi Mannuccini poi ancora Gianviello lì abbiamo visto poi Ragazzini Giacomo insomma un po' di atleti che stanno ecco qui chiamo Alessandro Annetti in questo lunghissimo rettilineo che stanno da correre proprio gare sul ritmo c'è da variazioni pochissime e qui ecco proprio nel momento in cui dovranno poi risalire mi sembra nel bordo del torrente vediamo ragazzini vediamo poi Cencini ecco e poi sì e qui stiamo tornando verso la zona del del traguardo ovviamente gli ultimi due chilometri con Attiglioni Mignola saldamente al comando vedete proprio un'impostazione ormai sicura certa delle sue potenze abituato a spingere la bordo non c'è niente di sotto mano quindi è come se avesse quasi nulla insomma abituato a fare queste cose mentre intanto faccara che arriva per il settore giovanile in precedenza e quindi ecco lui ha fatto la sua gara per conto proprio mentre adesso dovrebbe arrivare invece il vincitore assoluto di questa competizione per Attiglioniola che aveva condotto la gara insieme a Cristian Taras e Francesco Vannuccini che poi sono distanziati di un centinaio di metri circa uno dall'altro e lì vediamo che giungono al traguardo anche Cristian Taras abbastanza provati perché proprio la distanza era abbastanza lunga insomma abbastanza quasi 15 km poi da correre tutta sul ritmo quindi devi usare le forze per arrivare fino all'ultimo sempre costante e qui vediamo anche Vannuccini Francesco che stanno mi sembra che abbia una condizione fisica migliore rispetto agli scorsiani cioè più costante gareggia un po' di meno gareggia in maniera più oculata forse anche questo c'è da dire che Graziani ultimamente è mancato perché no un'allergia un'allergia ecco che Martinelli ecco che Martinelli che nel finale sta perdendo il pettorale mentre poi al quinto posto Alessandro Annetti e poi la sorpresa direi Pietro Verini che sta condicendo inizio gara inizio anno buono buono direi ha fatto buonissime gare e poi Platica Radu vediamo anche lì un altro atleta che sicuramente effettivamente anche Radu ha un ufficio insomma è giovanissimo il 91-92 poi è ripreso ora è più convinto anche nelle sue prestazioni Giacomo Valentini poi Giacomo Ragazzini a seguire anche lui Giacomo Valentini ha perso un pochino di brillantezza negli ultimi anni anche lui negli anni che cominciano a passare per tutti poi Giacomo Ragazzini invece anche lui molto bene poi Cencini poi vediamo Mannuccini Davide insomma ecco questi atleti sono quelli che diciamo vanno a completare un pochino la loro la loro gara ecco via via si voltano gli altri vediamo che Refinirco sempre in spinta anche nel finale nonostante essere solo la volata quasi la fa sempre vediamo se c'è Allori non mi ricordo se c'è Allori Stefano Sinatti poi dovrebbero esserci adesso il settore femminile vediamo un pochino ecco vediamo Prosa intanto e poi vediamo anche la Barneschi Francesca a giungere al traguardo eccola qui quindi ultime battute sorridente sempre è grande grande prestazione anche la sua poi ecco qui vediamo la Sanarelli Nicoletta Maraghini Orsini poi è da colpi proprio tutti lì eh sì Sanarelli Orsini proprio se la giocano negli ultimi metri però ecco un po' soddisfatti si complementano l'uno con l'altro quindi questo è bello anche questa cosa ecco poi via via si susseguono un po' i vari arrivi ecco qui vediamo anche Lucia Tiberi anche lei non è più giovanissima ma sempre però nella breccia quindi va sempre molto forte no lasciare da dire queste donne sono cioè vanno discretamente anche con passare dell'età ecco qui vediamo le prime azioni poi sentiremo anche le interviste un po' dei protagonisti di questa quinta edizione mi sembra quinta edizione della corsa campeste itinerante di Montepulciano eccola qua vediamo proprio anche la il settore femminile vedete proprio Barneschi Sanarelli e Volpi e poi eccole qua che vengono premiati dai responsabili della polisportiva Chianciano diciamo che sono partito tranquillo insieme al gruppone poi ho avvocato un pochino ma non di più la gara è sempre bella questa in mezzo a quella tigura è sempre un bello spettacolo e no la gara senza togliere è sempre dura questa è proprio dura anche se tutto è in piano siamo partiti in gruppone circa circa 6 atleti e un ritmo abbastanza tranquillo poi a tirio prima di metà la gara 5-6 atleti ho allungato e io sono rimasto dietro insieme a Francesco Vannuccini ho cercato di rientrare però a tirio ho un altro passo di un'altra categoria quindi poi devo correva bene io ho fatto la mia di questa gara sono contento come diceva anche a tirio il percorso è pianura sì però i tratti di sterrato alla fine si sentono e si pagano infatti gli ultimi nomi sono andato un po' in crisi comunque ho portato in fondo la gara un paesaggio bellissimo fantastico in mezzo alla natura davvero piacevole di questo buon percorso che giornata ci attende? direi una giornata fra l'altro una novità questa novità di gareggiare qui nella zona di Saione che non è stato mai effettuato una manifestazione diciamo tutte nel centro di Arezzo nella parte diciamo forse a nord della città questa volta abbiamo cercato proprio di rivalutare insieme alla Parco Corsa il Parco del Pionta e non a caso abbiamo utilizzato anche la zona di Saione anche dietro la spinta del Lion Club e di altri diciamo anche commercianti della zona per far vedere un po' che la città non è soltanto proprio nel centro specifico nel centro storico di Arezzo ma anche nella parte un pochino più diciamo a sud della città può essere interessante poter partecipare quindi non a caso questa camminata questa diciamo questa vivicità il nome lo dice stesso deve vivere la città quindi vivere in tutte le sue ampiezze che possano permettere a tutti di conoscere anche altre zone di Arezzo infatti fa un po' impressione vedere qui via Vittorio Veneto così libera dal traffico invece avvolta dai colori degli atleti ma infatti diciamo ora quest'anno è un primo approccio ovviamente verificheremo se poi sarà un proseguo anche su questa su questa possibilità di fare la gara qui a Saione e soprattutto in via Vittorio Veneto perché effettivamente per me è una via importante della città e probabilmente focalizzandola diciamo impostandoci anche qualcosa di più specifico può essere veramente un evento da poter non trascurare così in maniera semplice una edizione particolarmente significativa perché si tiene qui a Saione sì abbiamo cambiato la nostra solita location che era arrivo e partenza da Piazza Sant'Agostino così stimolati dai Lions Arezzo Chimera la Lions Club Arezzo Chimera e da Confesercenti e volentieri abbiamo accettato questa proposta di spostarci qui nel quartiere di Saione quartiere che è stato un po' agli onori delle cronache non sempre positive però noi vogliamo in questo modo dare il nostro contributo per creare quei momenti di associazione tra le persone di partecipazione e crediamo che una manifestazione come Vivi Città che giunge alla sua 35esima edizione e che fa riferimento alla vivibilità delle città alla partecipazione in comune sia una manifestazione che capita a proposito insomma ecco qui vediamo invece l'altra partenza delle Vivi Città quest'anno cambiando di località sempre Arezzo però cambiando zona quindi la zona di Saione e sicuramente direi è stato un grande successo anche come percorso che era più lungo del previsto io lo fasi era più lungo del previsto era un chilometro e 400 più di quello del previsto mi sembra però ecco c'è da dire un bel percorso non era noioso bellissimo proprio correvi io abitando a Policiano non avevo fatto mai quelle strade però ecco scorreva bene è stato un bel percorso e poi ecco ovviamente abbiamo utilizzato una parte del Pionta che qui è la città sempre bene è sempre spettacolare bellissima direi che è uno dei posti che abbiamo sempre sostenuto belli dove poter correre come dicevo prima si tornava al discorso di Empoli più o meno sulla falsa riga come impostazione come parco che è più facile organizzarci una corsa una campestra una campestra perché non ci sono viali li crei da te invece ci sono dei viali di parte volte si è costretto a passare di lì e quindi è più difficile creare un percorso però direi che questa è una bella una bella gara diciamo anche questo tratto iniziale ripeto di su due volte sicuramente molto molto carino da parte dei concorrenti apprezzato abbiamo sentito la parco corsa hanno detto che il percorso era favoloso quest'anno non c'è stato nessuno in top l'anno scorso l'inesperienza ci ha fregato un pochino in partenza quest'anno abbiamo calcolato tutto come poteva quello che poteva succedere siamo riusciti a fare tornare tutto ecco però c'è da dire che qui dentro si corre benissimo ecco qui vediamo proprio anche le retrovie dei concorrenti che stanno attraversando diciamo questa parte del Pionta è qui veramente bello una buona partecipazione nonostante la concunitanza di tante città e non pubblicizzato tanto sai che c'è però sicuramente apprezzato tantissimo poi nella zona di Saione che non veniva mai fatto nulla di queste competizioni questo spostamento anche dal centro diciamo quasi classico storico di Arezzo spostandosi anche a sud diciamo della città è stata apprezzato positivamente è stato apprezzato quindi questo vedete un bel gruppo di partecipanti anche qui diversi non competitivi si qui c'è da dire che gli aretini l'hanno un pochino snobbato gli aretini più forti quelli più forti non l'hanno gareggiato da una parte è un peccato uno fa le scelte come mi pare sì sì alcuni avevano in mezzo di fare le mezze maratone altri hanno in mente di fare altre cose molti sono andati a Firenze no non quelli più forti quelli insomma così c'era mezza maratona tira molto quindi c'è la mezza maratona come vi città a Firenze quindi perché no potrebbe essere anche che questa qui si possa sviluppare ma chiaramente diventa un percorso problematico poi le mezze maratone c'è una rete quindi bisogna fare una e basta ecco qui intanto vediamo vediamo che siamo in una zona di pescaiola in una zona di pescaiola che anche questa viene utilizzata pochissimo in occasione della corsa di diciamo di menneo adersi di corsa record che sarà a metà di cene il 12 di settembre mentre qui vediamo Marini 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 sì della e Metius Satiliano Satiliano Metius che sono partiti forti hanno staccato fin dalle prime battute tutti gli avversari quindi il ritmo anche fra l'altro direi non male un ritmo sostenuto peccato è una certa discreto peccato peccato che sono mancate alcuni altri non hanno avuto la concorrenza Arretini che poteva essere veramente una bella battaglia fra questi concorrenti però nulla nulla vieta diciamo per gli atleti poter correre ecco vediamo un po' l'impostazione anche della corsa poi vediamo gli atleti insomma ecco che si sosseguono nella zona interna anche di Pescaiola una zona nuova che è stata utilizzata in occasione della corsa Cop di ottobre l'anno scorso e quest'anno ricordiamo sarà il 9 di settembre quindi un altro grande evento che è già stato messo in cantiere per poter realizzare qui vediamo due giovani del Buono e Mori rispettivamente sono Basso Casentino e Alto Casentino tutti due junior e quindi sono due potenzialità per Arezzo peccato una gareggia per una società fuori della Toscana fuori della provincia d'Arezzo invece sarebbe opportuno che queste forze fossero un pochino unite per realizzare una discreta società anche a retina il che potrebbe essere praticabile qui vediamo Banelli Luca un altro diciamo figlio d'arte figlio d'arte che comincia il latte il zubabbo correva anche il zubabbo e qui vediamo sempre la testa di corsa la corsa della testa la testa della corsa con Marini che si volge perché non conosce forse molto bene Satigliano anche se abbiamo visto recentemente fece una bella gara la corsa laggiù a Bucci e qui vediamo Ricordetta Sannarelli che è tallonata anzi dietro a Volpi Francesca quindi nello spazio di pochissimi metri sono una dietro l'altra ecco qui vediamo laggiù quindi sono quei 30-40 metri e Volpi Francesca sta usando sempre di più man mano che va avanti l'atleta di Sansepolcro sta veramente dimostrando delle potenzialità che forse anche lei non immaginava ma sicuramente è poco tempo che viene a gareggiare qua da noi quindi ancora non ha preso le distanze giuste fra quell'atleta e quell'altra terra quindi ecco qui vediamo questo tratto forse quello più rognoso Moreno questo qui quando rientriamo tra lo sterrato e l'asfalto prima lì nella zona tortaia sì nella zona tortaia rientriamo però non è non è saranno 400 metri e poi vediamo questo atleta 442 che ha fatto la non competitiva perché è arrivato tardi e quindi non l'hanno iscritto nella gara competitiva però è stato un competitivo è arrivato fra i primissimi quindi grande grande diciamo prestigio per lui e qui intanto ecco vediamo proprio il gruppetto che si sta inserendo che stiamo ritornando nella zona della tortaia e qui lotta serratissima ecco che fanno questo giro della rotatoria che è particolarmente diciamo un pochino più rognoso da un punto di vista del traffico io gareggiavo non mi rendevo conto dove ero non sapevo dove ero a un certo punto dove andato ma dove siamo a uno gareggio diciamo qui dietro il Belvedere e qui siamo in Viarno vediamo ancora Satigliano sempre in spinta molto molto bene insomma ecco quindi sta crescendo molto molto più compatta la corsa invece di Marini che ha avuto anche lui qualche problemino ma adesso sembra che sia rientrato nelle condizioni ideali e quindi già il primo passaggio dopo sei chilometri e mezzo era in testa la corsa abbastanza definita qui rientrare in via in via in via lì nella zona diciamo del 4 novembre scuola 4 novembre stavano entrando lì i concorrenti è comunque questa zona che poi è stata interdetta al traffico sicuramente positiva anche questo aspetto qui anzi ringraziamo la polizia municipale che ha permesso veramente di far svolgere in sicurezza proprio tutto gli atleti e al tempo stesso penso anche come disagio da un punto di vista delle auto siano stati limitatissimi è la giusta via Vittorio Veneto però dopo c'è la via Masaccio che era aperta c'erano delle alternative molto positive insomma qui vediamo Volpi Francesca al passaggio quindi a lottare insieme al gruppetto ai gruppetti diciamo del settore maschile mentre poi qui ovviamente l'arrivo sarebbe stato sotto l'arco l'arco gonfiabile qui vediamo Sannele Nicoletta poi della Lunga poi vediamo Lelli Filippo Bresci ritornato alle gare anche lui dopo un inverno abbastanza sorgnone ma quando torni voglia fare qualche gara in più rispetto agli anni precedenti partito presto di solito arriva sempre la maratona e poi basta e qui siamo tornati ancora sulla pista ciclabile che ci accompagna diciamo nei tratti del percorso che erano due giri di questa tracciata addirittura vengono già doppiati i concorrenti che erano presenti al primo passaggio segnalata bene grazie anche a Annetti Giuseppe Giuseppe Annetti che ormai è diventato il disegnatore dei percorsi e sicuramente non sfugge più quasi niente quindi questa mattina è stato misurato il percorso della scalata del castello per avere l'omologazione ora glielo suggerirò anche a lui in modo da segnalare penso che sono tre chilometri e duecento a giro quindi senza tanti problemi siamo nella zona torta e vedete la PAM qui vediamo Gibina Miccare che addirittura viene recuperato loro dovevano fare un giro del percorso poi qui ecco altri tratti di verde siamo dietro è ben vedere in quel parco diciamo della zona in zona Arno quindi molto bella anche quell'altra zona lì io ci ero mai passato ma è bello lì quindi questo ha permesso il Vivi Città il nome lo dice il nome stesso vivere la città quindi è bene anche andare a indagare a indugiare anche nei tratti un pochino più particolari della città io ho scoperto dei punti che non c'erano mai passato e a volte le corse servono anche per questo servono per conoscere come a volte si conoscono i paesi le frazioni ecco in questo caso anche la città stessa perché molto spesso si cura solo un reparto della città e tutto il resto e qui siamo nelle fasi finali c'è da dire a questo punto siamo nelle fasi finale che il 6 di maggio c'è la corsa a Subbiano il 13 maggio a Ribbiena corri per Thomas ecco quella è una corsa di solidarietà quindi siete pregati diciamo di partecipare perché il ricavato viene dato tutto per questo bambino di 4 anni che ha delle malattie particolari che ha bisogno di cure costosissime quindi diciamo la presenza di ognuno di noi contribuendo a questo alla raccolta diciamo di fondi per questo ragazzo è veramente importante quindi lì l'aspetto sportivo passa quasi in secondo piano l'abbiamo inserita nel circuito del Grand Prix proprio con l'intento di portare più gente possibile proprio per dare una mano alla realizzazione o al superamento diciamo di certe difficoltà che la famiglia stessa ha nel completare tutto e qui intanto andiamo ad applaudire Marini del Marathon Club Città di Castello e anche al secondo posto per quanto riguarda Satiliano Metus che anche lui è andato molto forte costante nella sua corsa ecco qui terzo posto forse la sorpresa per Luca Banelli della polistica Il Campino eccolo qua poi ecco qui vediamo anche Fatichenti Leonardo e via via si susseguono un po' tutti le anche lui un po' mezzo infortunato però ora sta rientrando sembra che gli infortuni cominciano ad allontanarsi speriamo sia pronto per le staffette ecco Banelli no erano Fatichenti scusate poi dopo Banelli eccola qua ecco che mori ecco Volpi invece l'arrivo della prima donna in questo caso la vediamo dietro c'è Pace piccolino ancora si vede bene c'è Pace bello e quindi vediamo ancora ecco soddisfattissima anche per Francesca e poi seconda Sanavelli sempre sorridente anche lei quindi non per niente diciamo delusa per la sua prestazione anzi vedete proprio l'accoglienza ma dove vai con quelle gambine e poi il terzo posto invece l'atleta sempre Sansepolcro Sansepolcro Rossi Valentino Rossi Valentino ecco sì dell'Avis Sansepolcro ecco qui poi arrivi anche te è abbastanza fresco insomma 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 14 16 ecco e adesso le premiazioni adesso vi lasciamo all'intervista ovviamente l'appuntamento fra 15 giorni con le prossime gare quella di Subbiano e quella di anche di Bibbiena insieme ai primi tre classificati di questa 35esima edizione di Vivi Città il vincitore Giuseppe Marini allora come è stato questo percorso? ma il percorso come ho detto all'arrivo è molto bello eh normalmente chi corre e poi anche loro lo sanno ti godi poco il percorso io sono un aretino corro a città di Castello però comunque sono di Bagliate d'Alda quindi essendo un aretino Arezzo non lo conosco troppo bene e oggi ho avuto l'occasione per visitare un po' tutto però come ho detto è dura correndo è meglio magari andare via in compagnia a fare una passeggiata allora me lo vado di più comunque bene complimenti anche a loro che dai siamo partiti sinceramente veramente forte io e Satiano siamo partiti i primi metri anche sotto i tre ci siamo anche guardati però veramente veramente un bel percorso è una bella gara e sono contento più di così non si può da chiedere è stata una bella soddisfazione comunque diciamo che è stato un percorso adatto a me diciamo quello percorso tra asfalto e sterrato mi si addice un po' anche a me anche al mio collega infatti anche a Giuseppe è comunque un posto nel podio sì sì no no sono molto contento il percorso è stato bello ma al tempo stesso anche abbastanza duro perché comunque sia c'erano anche diverse ripartenze tratti in sterrate poi come ha detto Marini sono veramente partiti molto forti l'ho lasciati anche andare anche perché non ho grossa tenuta in questo momento infatti sono arrivato abbastanza al limite diciamo il punto più difficile qual era? il punto più difficile per me era qua l'ultimo chilometro e mezzo due dietro queste case tutto sterrato single track e via dicendo categoria femminile Francesca Volpi Atletica Sansepolcro è una bella soddisfazione sì è vero prima volta sono contenta bel percorso tra l'altro sì bel percorso tutto pianeggiante e sull'entra città natura bello bello mi è piaciuta hai guidato dall'inizio praticamente più o meno sì dai stavamo insieme sì è cambiato il percorso rispetto agli anni precedenti molto bello che dire stamani le gambe giravano un po' meno però mi sono divertita comunque l'importante è quello sì l'importante è quello assolutamente bellissima manifestazione un po' faticosa però bella quando si corre si gareggia siamo sempre felici hai partecipato anche a quelle degli altri anni sì in altri percorsi sì sì rispetto a questo percorso l'hai trovato più difficile? no diverso pianeggiante un po' più veloce non ci sono le salite ma devi mantenere un ritmo a alto lo stesso quanto ci si allena per ottenere questi risultati? tre volte a settimana la gara e un po' di palestra perché se no per compensare categoria ora vinta da Silvano Sguerri allora una bellissima soddisfazione sì a vincere è sempre una soddisfazione io corro per vincere sono sono sempre stato agonista e mi piace farla agonisticamente 72 anni lo dobbiamo dire quindi ha maggior ragione certo io sono da 1974 che corro ho fatto circa 1500 gare ne ho vinte circa 500 tra assoluti e di categoria non ho tutti assoluti sarebbe stato due anni fa hai vinto anche a livello nazionale no? in 5.000 due anni fa ho vinto i campionati italiani in 5.000 in pista e poi ho vinto i campionati su tutto ho vinto 17 titoli italiani tra i campionati italiani ferrovieri perché io sono un ex ferroviere poi i campionati Aix comunque 17 17 titoli aix 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 aix